MAMMA No, sono io Sei qui? E dove? Nella lavanderia Ma dimmi, che ci fa un telefono nella lavanderia? Siete una famiglia di svitati No, tu sei svitato Vuol dire questo tenere il segreto per un po' Sono venuto per salutare l'io e... per vedere il tuo bel visetto Mio padre dovrebbe già essere a casa Andiamo, Kaylee Solo un momento Va bene Piano Io passo quasi tutto il mio tempo a inventarmi un modo per stare con te Una mente davvero creativa Ma io stavo pensando che potremmo baciarci sui sedili della mia auto quando la porto all'auto lavaggia Mi prendi in giro? Ma no, davvero Penso che tu sia dolce Hai sentito qualcosa? No Diventerai paranoica Già, scusa Mi dispiace, non ci riesco È che mio padre è molto nervoso da quando Marty se n'è andato e se ci becca qui dentro insieme per noi è la fine Quante scuse troverai ancora per non stare con me? Scusa Stai scherzando, vero? Dai, rilassati Va tutto bene Kaylee Lo sapevo, hai visto, è lui Dove sei? Eccomi Kaylee Che stai facendo? Stavo, stavo facendo il bucato Il bucato? Sì Non mi risulta che in tutta la tua vita tu abbia mai provato a farlo il bucato quindi scusami Ma Comunque sia Ascolta Kaylee È un momento davvero difficile Dobbiamo chiudere l'accordo col tuo sponsor e tutto questo prima che venga fuori il problemino col nostro allenatore Cagher Che mi racconti? Non molto Com'è il college? Splendido Com'è mia sorella? Lei Lascia perdere Non voglio saperlo